A tre giorni dall'evento calamitoso che ha messo a dura prova una buona parte del lago Negrese e alcuni cendi della Calabria ubicati nel parco del Pollino, a Lauria si fa una prima stima dei danni. Stiamo cercando con dei sopralluoghi, con l'ufficio comunale, di capire come riportare alla normalità la viabilità, viabilità che era stata limitata in alcuni tratti per precauzioni, visto la caduta massa e quant'altro. Il Castello era stato già oggetto prima dell'incendio di un finanziamento per la messa in sicurezza da parte della sovrintendenza, quindi bisogna accelerare semplicemente l'Iter e l'Iter che inizieremo ad accelerare sin da subito con l'ufficio tecnico per quanto riguarda il coordinamento con la protezione civile regionale, per fare in modo che questi sopralluoghi possano iniziare nel più breve tempo possibile, perché se la situazione è questa, da domani chiuderemo il centro operativo comunale e ci dedicheremo all'azione di monitoraggio. Nella mattinata di giovedì ancora nuovi piccoli focolai, monitorati e prontamenti sedati dai vigili del fuoco. Non si hanno ancora elementi concreti sulla natura dell'ingegno, ma proseguono le indagini da parte delle autorità competenti. Dal punto è venuto fuori che non ci sono motivazioni per dire che l'incendio sia spontaneo, in generale non abbiamo acquisito nessun atto, almeno per quanto mi riguarda, ma penso che ci siano gli organi giudiziari, tra cui i carabinieri, i carabinieri forestali che a valle dell'emergenza e anche prima hanno acquisito gli elementi per poterli analizzare. Nella tre giorni di fiamme, importante il supporto dei volontari e della buona tenuta della macchina organizzativa attivata per l'emergenza. I dipendenti comunali a cui è andato il mio ringraziamento in un post che ho fatto prima di andare a pranzo, hanno dimostrato l'affezione al posto di lavoro, l'abnegazione per il lavoro che fanno. Sono stati disponibili H24 sempre, hanno dimostrato di saper gestire situazioni critiche di emergenza, si sono coordinate con le varie forze dell'ordine, si sono interfacciati anche con dei cittadini che in modo giustificato erano disperati, avevano paura. Hai ricordato bene il giorno in cui il castello era attanegliato dalle fiamme, tra il castello e la Sunda avevamo le fiamme al cerruto, cadevano i massi, ci coordinavamo con la protezione civile, ci coordinavamo con l'ufficio tecnico quando concerne la viabilità, con i vigili che hanno dimostrato una capacità di mettersi a disposizione che va oltre ogni misura. Immaginiamo che, voglio farlo pubblicamente, Raffaele Trotta e il maresciallo hanno avuto anche un lutto in famiglia, fino a poche ore prima che il suocero andasse in ospedale, poi non era attesa, la fine è stato qui, stamattina sono andato al funerale, ha dato già la disponibilità per domani mattina, questo dà la sua dimensione come quella di tanti altri che va nella direzione di sfatare anche i luoghi comuni. I luoghi comuni vengono dettati spesso anche da coloro che non hanno a cuore il proprio lavoro, però anche nel pubblico ci sono, c'erano e ci saranno persone che fanno il proprio dovere, lo sanno fare e che poi fanno la differenza anche in situazioni del genere.